Matteo Marani mesi fa durante una nostra intervista ci parlò del progetto delle squadre B e di come il Milan fosse interessato. In effetti con il passare dei mesi la società rossonera ha palesato il proprio interesse ma il progetto non è ancora partito. Certamente la possibile iscrizione dovrà verificarsi per la mancata iscrizione di un club di C, condizione necessaria per ammettere una squadra under 23. Il Milan nella gerarchia dei club che possono fare domande dietro all'Inter che però non pare interessata. L'ultima decisione sarà Geri Cardinale considerato che una squadra costa 7-10 milioni di euro a stagione ma è un'opportunità di crescita per molti giocatori oggi nella primavera di Ignazio Abate. Ma la notizia di oggi invece è l'interesse del Napoli ad una formazione B. Sinceramente ci risulta difficile immaginare la concretezza di tale idea viste le difficoltà degli azzurri nella gestione del settore giovanile partenopeo. Retrocessi in primavera 2 e adesso in lotta per ritornare nel massimo campionato giovanile. A riportare la notizia è il mattino che spiega come il padrone azzurro dell'Aurentis avrebbe dato compito al futuro direttore sportivo Manna di ragionare sulla creazione del Napoli Under 23 per riscriverlo in terza serie. Circostanza che il DS ha già vissuto alla Juventus essendo stato uno dei coordinatori della Next Generation Bianconera, prima squadra B d'Italia. Vedremo se la situazione si evolverà e se la Serie C sarà presa d'assalto a due formazioni di Serie A a discapito dell'affascinante calcio di provincia.